condividere lo schermo appena termino appena termino la mia brevissima presentazione buonasera a tutti eh ringrazio i soci e i partecipanti a questo incontro che fa parte del ciclo i martedì di Flegrea Foto eh ciclo che abbiamo avviato nel nel in questa situazione di pandemia che ci non ci consente gli incontri in presenza e sfruttiamo diciamo la modalità digitale per per mantenere il contatto eh su una delle nostre passioni principali che è quella della fotografia. Abbiamo fatto eh serate con temi più diversi eh però stasera eh abbiamo con noi eh Enrico Maddalena che saluto e che ringrazio peraltro per la sua disponibilità a essere con noi e che eh svolgerà un una lezione, un ragionamento eh su uno degli elementi di base che è quella della del del nostro del nostro fotografare che è la composizione fotografica che può sembrare un elemento come dire eh semplice e persino banale ma in effetti poi non lo è perché gran parte delle buone foto sono tali proprio grazie al fatto che la la composizione eh fotografica che è alla sua base è un'ottima composizione e quindi rende l'immagine eh ricca di del della sua forza espressiva. Diversamente se la composizione per qualche motivo poi ci dirà meglio ovviamente Enrico ehm se la composizione invece risulta debole o errata la 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 l'immagine perde perde della sua forza espressiva insomma anche se ha se potrebbe avere un contenuto importante per cui ho pensato che poteva essere un elemento di diciamo interessante da affrontare. Peraltro Enrico eh è un docente FIAF di lungo corso insomma ha scritto libri di fotografia organizzato corsi, workshop, quindi eh diciamo sicuramente avremo la possibilità di conoscere una serie di elementi che ci arricchiranno anche più navigate arricchiranno insomma la la conoscenza del della materia. Enrico peraltro oltre ad essere docente FIAF fa parte mi piace ricordarlo di uno dei circoli FIAF ehm che ha una 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 sua storia antica in Abruzzo a Magliano dei Marsi amici dell'immagine ehm con cui eh Enrico mi pare che sia presidente di questo presidente onorario presidente onorario quindi ancora di più c'è una sua storia all'interno del circolo. Bene io ti passerei volentieri la parola Enrico così cominciamo e e procediamo. Prego. Va benissimo io vi ringrazio vediamo se riesco a condividere si vede sì? Sì ci siamo ci siamo Enrico. Allora vi ringrazio innanzitutto per l'ospitalità e vi saluto. Ora iniziamo questo questa chiacchierata questa sera sarà forse non lo so leggermente lunga mi fermerò io a metà così per non appesantirla e iniziamo allora questo questo discorso. Allora ehm tanto per iniziare il la chiacchierata eh io ho scritto un libretto che sta per uscire a maggio sulla fotografia con lo smartphone e giovedì inizio un corso di fotografia per lo smartphone che vede iscritti già fino ad oggi cinquantanove persone e quarantanove persone ma sicuramente aumenteranno. Perché vi eh mostro questo? Perché all'interno di questo libro io inizio col dire proprio questo. Per fare una buona foto occorrono tre cose. Tre cose che non si acquistano, che non si trovano su internet e che non si trovano nei negozi di fotografia. Queste tre cose sono la luce, la composizione e l'idea. Noi oggi ci occuperemo della composizione. Allora eh facciamo una premessa. immaginiamo di eh farci una passeggiata e durante questa passeggiata passiamo accanto a un cantiere edile e vediamo che cosa? Vediamo un mucchio di mattoni, dei sacchi di cemento e della sabbia. Bene, ritorniamo da quelle parti dopo alcuni giorni, dopo qualche settimana e al posto di quegli elementi ammassati lì troviamo un muro. Adesso che differenza c'è fra eh il mucchio di mattoni, il cumulo di sabbia e sacche di cemento e il muro? Il materiale è lo stesso, cioè nel muro noi ritroviamo i mattoni, troviamo il cemento, troviamo la sabbia. Quello che è cambiato è la struttura, cioè quegli elementi sono stati messi insieme eh attraverso un disegno, un progetto ben impreciso. Adesso questa struttura può assolvere a delle funzioni che prima non assolveva, quindi può eh reggere dei solai, quindi può avere una funzione statica, una fusione, una funzione di isolamento termico, di isolamento ottico, di isolamento acustico. Questo eh lo può fare proprio perché adesso è una struttura. facciamo un altro esempio. Ora immaginiamo che due signori, Carlo e Osvaldo, abbiano acquistato ciascuno una una casa, una villetta schiera. Dopo averla sistemata all'interno, averla addobbata, decidono di pensare al giardino, quindi di eh fare bello questo spazio che hanno che hanno davanti alla casa. Vediamo cosa fa Carlo. Carlo si rega in un vivaio e comincia ad acquistare le piante. Allora dice a mia moglie piacciono le rose, adesso le prendo una bella pianta di rose, a me piacciono i gradioli, ma guarda che bella questa pianta, metto anche questa. Allora sceglie le piante che gli piacciono e se le porta a casa per piantarle. Vediamo invece che cosa fa Osvaldo. Osvaldo prima di regarsi nel vivaio si siede, prende carta e penna e comincia a ragionare. Io vorrei fare un giardino che ecco, magari mi ricordi la successione delle stagioni. Anche in inverno vorrei avere dei colori, quindi prendo un agazzino così con le bacche rosse, mi dà il colore anche quando le piante sono spoglie. Metto un grigine così a primavera, ho questi bei colori rosa, questo profumo delicato. Poi d'estate vorrei piazzarmi sotto un albero all'ombra a leggere qualche libro, quindi prendo una pianta frondosa. Fa tutti questi ragionamenti, si progetta il giardino e dopodiché va al rivaio e li acquista. Qual è la differenza? Il giardino di Carlo è una cozzaglia di piante, cioè non c'è un disegno che le colleghi, sono tante piante messe lì. Il giardino di Osvaldo è diverso, il giardino di Osvaldo funziona perché ha una struttura, cioè ogni pianta non ha importanza di per sé, ma ha importanza all'interno del disegno generale. Questo è come un mosaico. Ieri una ragazza mi chiedeva, stava facendo un portafoglio e quindi mi diceva che non riusciva a mettere insieme le cose. Io ho detto guarda che un portafoglio è come un mosaico. Le singole tessere del mosaico sono le due fotografie. Adesso l'insieme deve costituire un disegno. Allora se questo disegno c'è, il portafoglio funziona, ma se sono soltanto delle immagini, delle fotografie messe lì e non c'è un disegno generale, non è un portafoglio. Che c'entra, mi direte voi, tutto questo con la fotografia, il giardino, i mattoni, il cantiere, cosa c'entra? Invece c'entra, c'entra perché? C'entra perché la fotografia, lo spazio fotografico in fin dei conti lo possiamo vedere come un cantiere edile o come un giardino, nel senso che all'interno dello spazio fotografico ci sono una serie di elementi. Allora la composizione è sistemare questi elementi in un certo modo. Allora questa sarebbe una foto di Carlo dove c'è un ammasso di elementi, una confusione di elementi, ma non c'è un disegno ben preciso, l'orizzonte è anche storto e così via. Questo andrebbe bene se noi vogliamo raccontare proprio una sensazione di disordine di Gauss va bene anche così. Però questa è una foto abbastanza banale. Questa è la foto di Osvaldo. Allora in questa immagine gli elementi non sono messi a caso. Cos'ha fatto Osvaldo? Osvaldo ha ripreso il bambino di spalle, si è abbassato, ha messo il fuoco sul bambino e ha limitato la profondità di campo in modo che il babbo si vedesse ma non avesse un peso strutturale eccessivo, no? Perché il volto ha un peso strutturale notevole e se noi lo sfogliamo lo alleggeriamo. Quindi qui il protagonista è il bambino e ci racconta in questo modo appunto facendo queste scelte compositive ben precise, questa immagine racconta, è efficace e ci mostra appunto questo rapporto fra il bambino e il papà. Quindi quando noi facciamo una immagine dobbiamo stare attenti al rapporto reciproco che hanno gli elementi fra di loro e non basta. Anche al rapporto che hanno questi elementi con i limiti dell'immagine, con il perimetro dell'immagine. Adesso approfondiamo un pochettino questo concetto. Un'altra cosa è il concetto di struttura e funzione. Ora struttura e funzione sono due elementi estrettamente collegati. Una struttura se è fatta in un certo modo funziona, altrimenti non funziona. Questa bicicletta non può funzionare perché è sbagliata la struttura, ha delle ruote diciamo quadrate. Allora uno scienziato, un biologo, quando studia un organismo vivente, quello che volete voi, lui cerca di capirne la struttura perché attraverso la struttura si può spiegare la funzione. Quello che fanno i medici, quello che fanno i ricercatori, il coronavirus, quindi si cerca di capire come entra all'interno delle cellule, qual è la struttura di questo coronavirus per poterlo contrastare. Il progettista quindi dalla funzione alla struttura. Il progettista fa il contrario. Un progettista, per esempio un architetto che deve costruire un ospedale, ha presente la funzione e quindi deve progettare una struttura adatta a che la funzione di quell'ospedale sia svolta al meglio. Quindi studierà la disposizione delle sale operatorie, studierà la disposizione delle varie sale di degenza e così via. Se la struttura è studiata bene, quell'ospedale funzionerà, altrimenti no. Per la fotografia è la stessa cosa. Cioè se la nostra struttura è fatta bene, se la composizione è giusta, la immagine funzionerà. Funzionerà, che significa funzionerà? Significa che riuscirà a trasmettere il messaggio che vogliamo comunicare, no? Perché la fotografia alla fine non è altro che un segno che veicola dei messaggi. Quindi se noi vogliamo comunicare dobbiamo stare attenti a questo, altrimenti va bene lo stesso. Cioè la fotografia ci ricorderà, sarà un blocco di appunti che ricorderà a noi stessi l'emozione che abbiamo provato nello scattare, però molto probabilmente non riuscirà a comunicare agli altri questa emozione. Se vogliamo comunicarla agli altri, dobbiamo saperla scrivere. Un pochettino la fotografia è più simile alla letteratura che alla pittura, in un certo senso. Allora, io inizio qui a parlarvi dello spazio fotografico, perché alla fine la nostra immagine è uno spazio. Allora vi riporto gli spazi di Dubois. Lui, adesso vi li spiego attraverso delle immagini, li elenchiamo, ma questi nomi significano poco, poi li spieghiamo. De Dubois distingue quattro spazi nella fotografia. Lo spazio referenziale, lo spazio rappresentato, lo spazio della rappresentazione e lo spazio topologico. Adesso li vediamo. Allora, qui io mi trovavo a Ovindoli con le mie figlie e stavamo facendo fotografie. Io con la mia macchina, le mie figlie con la loro e allora io mi trovavo nello spazio reale. Lo spazio reale è uno spazio a tre dimensioni, non ha confini, contrariamente all'immagine fotografica che li ha. Quindi è uno spazio che ci avvolge totalmente ed è uno spazio ricco di stimoli. Tanti di questi stimoli, di queste sensazioni non le possiamo trasmettere nella fotografia. Noi sentiamo il vento in faccia, sentiamo il profumo dell'erba tagliata, sentiamo i rumori della campagna e queste cose non possiamo produrle in fotografia. Possiamo riprodurre in fotografia soltanto, diciamo, gli elementi visivi. Allora, questo spazio che ci circonda, nel quale noi ci muoviamo con la macchina fotografica, è il cosiddetto spazio referenziale. Cioè il referente è la realtà che era davanti all'obiettivo. Che cosa succede? Allora io decido di scattare una foto. C'è mia figlia Patrizia che è salita su una rotoballa e faccio delle scelte. Mi abbasso in maniera da isolare mia figlia nello sfondo del cielo. Decido di non inquadrare tutta quanta la rotoballa, ma inquadrarla soltanto in parte. Mi abbasso. Quindi che cosa ho fatto? Ho ritagliato attraverso l'inquadratura una porzione di quello spazio immenso che mi circondava. Ho fatto una scelta. Questo è lo spazio rappresentato, cioè il ritaglio che io ho deciso di rendere nella mia foto attraverso il mirino. Quindi quando io inquadro, sto facendo questo, sto ritagliando e inquadrare significa includere, ma al contempo escludere. Questo è uno spazio a due dimensioni a questo punto, perché il punto di vista è unico. Stambo la foto o la vedo al computer. Questo è lo spazio della rappresentazione. Adesso la foto è fatta. Questo spazio ha dei confini che sono importanti. I confini sono i lati del rettangolo, quindi non è più uno spazio infinito, ma è uno spazio limitato. Lo spazio della rappresentazione. Io prendo in mano questa foto e l'osservo, oppure la osservo attraverso lo schermo del computer. Mi ritrovo di nuovo in uno spazio a tre dimensioni. E quindi sto osservando questa foto. Vediamo che significa, perché questo comporta adesso una serie di problemi molto interessanti che andremo a studiare. Questo si chiama spazio topologico. Allora, nella realtà immaginate di vedere un muro bianco o di vedere un cielo, un cielo vuoto, un cielo senza nuve. Noi proviamo una sensazione di smarrimento, quasi di vertigine, perché l'occhio non riesce a mettere a fuoco nulla. Questo spazio è uno spazio inconsistente che non riusciamo a percepire. Se c'è un elemento, un qualcosa, in questo caso una nuvola, ecco che lo spazio diventa concreto. L'occhio mette a fuoco questo elemento, lo spazio diventa concreto. Avete mai fatto caso? Avete mai entrati in un appartamento vuoto appena costruito? Avete una sensazione di quasi dispaesamento. Una volta che avete sistemato dei mobili, strano a dirsi, lo spazio è come se fosse diventato più grande. Quindi lo avete occupato con qualcosa che vi sembra più grande. Ho la sensazione di quando guardate un albero, per esempio, un albero frondoso, con tutti quei rami, quegli spazi fra le foglie, quelli... Avete una sensazione di immensità, no? Vorreste essere un insetto per volare all'interno di quegli spazi. Lo stesso spazio, ruoto, vi sembra molto più angusto. Allora, noi percepiamo lo spazio, lo spazio fotografico in un certo modo. I lati per noi sono la verticale e gli altri due lati sono l'orizzontale. Questi perché noi siamo nati e vissuti sulla Terra e quindi in un campo gravitazionale, no? Siamo prasmati dalla gravità. Se fossimo vissuti nello spazio senza gravità, noi vedremmo le cose e anche le foto in maniera totalmente diversa. Noi siamo prasmati dalla gravità. Infatti ogni essere vivente, per esempio questo cane, ha un sopra che è diverso da un sotto. Mentre la simmetria destra-sinistra siamo identici, no? speculari ma identici. Però il sopra e sotto è diverso, anche per quanto riguarda le persone. Noi siamo plasmati dalla gravità. Allora, se noi osserviamo un elemento, in questo caso un cerchio nero, e questo cerchio nero non ha quasi identità, cioè non possiamo dire molto su questo cerchio nero, no? Non possiamo definirne la posizione, perché non abbiamo elementi ai quali riferirlo, e non possiamo nemmeno definirne la grandezza, perché per definire una grandezza è necessario che ci sia un altro elemento. Se ci fosse stato un altro pallino avremmo potuto dire questo ha la stessa dimensione dell'altro, è più piccolo, è più grande. Però nel momento in cui lo mettiamo in uno spazio, allora questo elemento acquista significati. Qui possiamo dire che è al centro. Nella realtà nulla è al centro. Nel spazio fotografico sì. Possiamo dire che è in alto a destra, possiamo dire che è in basso a sinistra, quindi, ripeto, tutti gli elementi all'interno di una foto debbono fare i conti con i confini di questa foto. Come vi dicevo prima, noi siamo plasmati dalla gravità e quindi quando guardiamo una fotografia i due lati, destra e sinistra, ci rappresentano la verticalità, noi li vediamo come verticali. Gli altri due lati come orizzontali. Ora, questo quadrato ci appare diritto, ci appare messo per bene in verticale perché i suoi lati sono paralleli ai lati dell'inquadratura. Adesso questo quadrato ci appare storto. Ci appare storto e inclinato perché noi lo riferiamo sempre ai lati del quadro. Se adesso incliniamo l'immagine, adesso il quadrato ci appare diritto. Ci appare diritto perché i suoi lati sono, diciamo, in accordo con la nostra verticalità, con lo spazio topologico nel quale ci troviamo. Quindi noi raffrontiamo i lati di questo quadrato con la direzione della verticalità nello spazio fisico nel quale ci troviamo, mentre l'inquadratura la vediamo come storta. Vediamo che cosa ci azzeccano tutte queste cose con la fotografia. Vedete questi sono dei trucchi che si fanno, no? Quindi ci sembra un qualche cosa di naturale, però la realtà è questa. Perché abbiamo questo inganno? Perché continuiamo a vedere questi due lati come i lati verticali e quest'altro come i lati orizzontali. Anche se prendiamo una foto e la mettiamo su un tavolo, quindi la mettiamo orizzontalmente, noi continuiamo all'interno della foto a percepire la verticalità e l'orizzontalità. Questa è la stessa cosa. È stata fatta così. Però vedete come la percezione è completamente diversa, perché per noi quella linea là è la verticale. Questa è una foto di Rodicenco e qui io ripeto un po' quello che ho detto fino ad ora, no? Rodicenco si divertiva a fare delle foto con prospettive inusuali. Questa foto la vediamo come foto storta. Perché la percepiamo come foto storta? Perché la verticalità, e qui ho disegnato il fila a piombo dell'immagine, quindi dello spazio della rappresentazione, è questa, che non coincide però con la nostra verticalità, alla quale noi diciamo abbiniamo il lato dell'immagine. Quindi c'è questa discordanza fra la direzione della verticale nella foto e la direzione della verticale nel nostro spazio topologico dove ci troviamo a osservare la foto. Non so se sono abbastanza chiaro. Allora, questo perché? Sento spesso dire o leggere nelle critiche alle fotografie, per esempio sui social, dice bella la foto però hai fatto l'orizzonte storto. Insomma, è banale, no? Non si fanno gli orizzonti storti. Allora stiamo un po' attenti. Guardate queste due immagini, sono due disegni, rappresentano la stessa cosa, gli stessi elementi. Qui c'è un mare e una barca. Qual è la sensazione che queste due immagini ci danno? Allora, a sinistra l'orizzonte è dritto. Noi abbiamo la sensazione di trovarci sulla terraferma e di osservare un'imbarcazione che si trova in difficoltà perché sballottolata dalle onde. Guardiamo quella a destra dove l'orizzonte è storto. Adesso ci sembra di stare dentro la barca, nella stessa barca o in un'altra barca. Ci sembra veramente a noi di essere sballottolati dalle onde. quindi questa differenza di disposizione rispetto alla verticalità, quindi questo aver storto l'orizzonte non è un errore, no? Ma serve per comunicarci una particolare sensazione, per coinvolgerci in questo, chiamiamolo così, dramma che questa barca sta, diciamo, vivendo. Attenzione alle regole. Le regole sono molto pericolose e l'orizzonte dritto storto dipende, non è per forza sbagliato, dipende da quello che vogliamo dire. Se per esempio vogliamo comunicare una sensazione di instabilità, non soltanto fisica ma anche psicologica, potremmo utilizzare un orizzonte storto. Bene, allora, detto questo, parliamo un po' dell'inquadratura delle inquadrature, quindi sicuramente lo sapete benissimo, fanno parte del linguaggio cinematografico ma anche di quello fotografico, no? Io ho detto prima, ve lo ripeto, che inquadrare significa includere ma anche escludere, quindi ogni fotografia è sempre una scelta. Potremmo mentire anche semplicemente attraverso l'inquadratura senza necessariamente dover usare Photoshop, perché inquadrando alcune cose e escludendone altre potremmo mentire, no? Si può mentire assolutamente dicendo la verità ma dicendola soltanto parzialmente. Allora, le inquadrature si dividono in campi e piani. I campi riguardano lo spazio fotografato, i piani riguardano la figura umana. Questo può essere utile per esempio quando fate un portafoglio, no? Cioè sono scelte significative, fanno parte del linguaggio fotografico e quindi non possono essere scelte se vogliamo comunicare in maniera efficace così in maniera casuale. Allora abbiamo un campo lunghissimo, il campo lunghissimo inquadra ampi spazi. In un portafoglio per esempio se vogliamo raccontare, prima di entrare nel racconto, vogliamo raccontare l'ambientazione, cioè ci troviamo qui, useremo un campo lunghissimo. Queste sigle sono sigle che si usano nel linguaggio cinematografico, quindi nelle sceneggiatura. CLR significa campo lunghissimo. Campo lungo, siamo un po' più vicini, l'orizzonte magari è nascosto da altri elementi, le persone magari le possiamo anche vedere ma sono talmente piccole che non le riconosciamo. Campo medio, siamo dentro la scena, quindi siamo all'interno del racconto. Poi c'è il campo totale che è un campo strano perché è un campo che inquadra nella sua completezza un elemento e quindi potrebbe anche essere la maniglia di una porta, potrebbe essere una finestra o potrebbe essere la facciata di una chiesa. Campo totale. Passiamo alla figura. Allora figura intera è ripresa tutta la persona lasciando un po' di spazio, poco spazio sopra la testa e sotto le scarpe. Quando è che usiamo una figura intera? Quando ci interessa raccontare della persona, anche il modo di vestire perché può essere indicativo di quella persona o l'atteggiamento, quindi usiamo una figura intera. Qui abbiamo il piano americano, notissimo, tagliato al di sotto delle ginocchia. Qui ci stiamo avvicinando e sentiamo, quando guardiamo questa immagine, questa avvicinanza. Tutti conosciamo il piano americano, forse il piano italiano lo conosciamo in meno. Il piano italiano è tagliato al di sopra delle ginocchia, quindi siamo ancora più vicini. Piano medio, il taglio è a livello dell'ombelico. Adesso qui non è che ci interessi tanto raccontare come questa persona è vestita. Qui ci interessa più il carattere, l'atteggiamento, i gesti della persona. Ci stiamo avvicinando, stabiliamo un contatto. Primo piano, il volto nella sua completezza e si vedono appena le spalle. E qui, diciamo, ci troviamo a tu per tu con il soggetto. Conoscete la prossemica? La prossemica è una scienza che parla degli effetti psicologici della vicinanza. Se una persona ci si avvicina oltre una certa misura ci mette in difficoltà o ci mette in allarme. Noi facciamo avvicinare soltanto alcune persone oltre una certa distanza. Il primissimo piano, beh, allora, il primissimo piano inquadra soltanto il volto. Quindi magari può tagliare anche parte del capo e del mento. E qui siamo a livello del racconto psicologico, perché sono soprattutto gli occhi e la bocca, quindi i muscoli mimici degli occhi e della bocca, a rivelarci le emozioni. E quindi in questo caso siamo veramente a livello di introspezione psicologica. E poi ci sono i dettagli. Il dettaglio è una piccola parte, ma a volte un dettaglio può raccontarci più di una figura intera. Hai mai fatto caso a un film che inquadra una mano che tamburella nervosamente e quella mano ci sta raccontando il nervosismo del personaggio. Noi siamo, diciamo, più bravi a mascherare le emozioni del volto, ma le mani molto spesso ci tradiscono. Bene. Allora, affrontiamo un altro argomento interessante. Il punto di vista. Voi sapete che il punto di vista è una scelta fondamentale nella fotografia. Molto spesso vediamo qualcosa che ci piace, anziamo la macchina e scattiamo. E quelli che fotografavano con la Rolle Frec, generalmente il punto di vista era a livello dell'ombelico o al di sopra della testa quando la giravano. La scelta del punto di vista è fondamentale. Allora, affrontiamo un po' questo concetto. Notate che qui ho messo un occhio e un obiettivo. Punto di vista nostro e punto di vista della macchina. Adesso capirete perché. Vi è mai capitato di, durante una visita a qualche museo, a qualche pinacoteca, il personaggio che vi illustra queste cose. Quindi la guida, l'accompagnatore vi dice, osservate questo dipinto. Questo è straordinario perché fate una prova. Voi provate a spostarvi e questo dipinto continuerà a seguirvi con gli occhi, con lo sguardo. Vi seguirà sempre, anche se vi spostate. Allora, è semplice fare questa cosa qui. Non è necessario essere un bravissimo pittore. Chiunque di voi lo può fare, soprattutto i fotografi lo possono fare. Perché non è una magia quella del personaggio che continua a seguirvi anche se vi spostate. Non lo è per questo motivo, perché noi ci illudiamo quando guardiamo una foto, ci illudiamo di vedere il referente, cioè ci dimentichiamo che stiamo guardando un qualcosa a due dimensioni e ci sembra, ci illudiamo di vedere veramente quello che era davanti all'obiettivo. Adesso è chiaro che se noi nella realtà cambiamo il punto di vista, il personaggio lo vediamo da diversi punti di vista. Adesso vi faccio un'animazione, vi faccio vedere. Ma io giro intorno a questa statua e la vedo da diversi punti di vista. Allora io mi illudo che debba succedere la stessa cosa quando guardo un quadro, una fotografia. Ma non è così. Perché non è così? Perché il punto di vista della fotografia non è il vostro occhio, ma è quello dell'obiettivo. Quindi voi vi potete spostare quando vi pare, ma l'obiettivo che ha scattato la foto è sempre lì, non cambia il punto di vista. questo è fondamentale. Quindi questo è un disegno a matita che ho fatto un girato a mio figlio Riccardo. Adesso mi sta guardando, io mi sposto di lato e continuo a guardarmi. Fotografia. Questo è Iannucci, il presidente del ciclo fotografico mio, sta guardando in macchina, quindi abbiamo la sensazione di essere guardati. Se io mi sposto sullo schermo, lui continua a guardarmi. Proprio perché il punto di vista della fotografia non è il nostro occhio, ma è l'obiettivo della fotocamera. A che ci serve questo? Adesso lo vediamo. Allora, un'altra delle scelte compositive che possiamo fare è l'angolazione. Allora, noi generalmente scattiamo a livello, cioè noi alziamo la macchina fotografica a livello degli occhi e scattiamo. Cioè a livello significa che l'asse ottico è orizzontale. La macchina guarda davanti a noi. Però abbiamo altre possibilità. Dall'alto, cioè ci alziamo e scattiamo, o dal basso. E queste sono scelte importanti, non sono scelte così, da fare in maniera casuale. perché? Vediamo. Allora, dall'alto. Immaginiamo che io, che il coronavirus non ci fosse stato e quindi fossi venuto da voi in una sala, no? E quindi stessi proiettando queste immagini su uno schermo in alto, no? Voi vi trovate in basso, eravate più in basso di queste immagini. Avreste continuato a vederla dall'alto. Se voi vi abbassate adesso davanti al vostro schermo, voi vedrete sempre questa immagine dall'alto. Potete mettervi in basso quando vi pare, la vedrete dall'alto perché il punto di vista, vi ripeto, non è il vostro ma è quello della macchina fotografica. Qual è il significato di una ripresa dall'alto? Voi sovrastate il soggetto. Il soggetto si trova in una situazione di inferiorità rispetto a voi, no? Questa scelta ci mostra questo ragazzo, questo lustrascarpe, che pure in giovane età è costretto a guadagnarsi la vita, e la ripresa dall'alto ci dà questa sensazione di inferiorità, no? Se noi fotografiamo dei bambini e li fotografiamo dall'alto, rimarchiamo la loro inferiorità fisica, no? Se ci abbassiamo è diverso. Se ci abbassiamo, ci portiamo al loro livello, diventiamo anche noi dei bambini. E questa è una foto dall'alto. Una ripresa dall'alto pone il soggetto nello spazio, quindi nell'ambiente, no? Mi ricordo di aver visto un portofolio molto bello, dove si parlava della giornata di un bambino, e questo bambino non era mai inquadrato. Cioè il papà aveva ripreso la vita di questo bambino, da quando la mamma gli portava il biberon, dalla visita degli zii e così via, attraverso gli occhi del bimbo. Quindi su quel libro che fotografia con lo smartphone e sul corso che farò, e parlerò del punto di vista, è che ho messo delle immagini e darò un esercizio di questo tipo, fotografate attraverso gli occhi del gatto. Quindi facendo delle fotografie, tenendo il telefonino proprio al livello del terreno. Se ci abbassiamo e facciamo una serie di fotografie così, forse ritorniamo bambini, ritorniamo alla nostra visione del mondo di quando eravamo piccolini. Allora, adesso vi mostro questa foto famosissima, che è diventata una icona, di questa bambina che fuggiva perché c'era stato un bombardamento al Napalm, quindi aveva avuto i vestiti bruciati, si era liberata e scappavano. Questa è stata fatta da Nick di questa agenzia fotografica, è diventata famosa questa immagine, ma contemporaneamente, nello stesso momento, a una manciata di secondi di distanza, c'è stato quest'altro fotografo che ha fatto una foto analoga alla stessa bambina, però questo non ha avuto nessun premio. Questo ha avuto il Pulitzer non soltanto, ne ha avuto tantissimi, è diventato famoso e ricco, quest'altro nulla. Secondo voi perché? Vi lascio la parola, visto che se qualcuno vuole rispondere, se vuole provare a rispondere, perché la prima ha avuto il premio e quest'altra no. In fin dei conti ti raccontano della stessa scena. Buonasera, Giuseppe, ci provo. Sicuramente c'è un punto di ripresa diverso dove è concentrata la foto che ha vinto il Pulitzer e prettamente sull'azione, non ci sono elementi, penso, di disturbo come questa sieve a sinistra che si vede nella foto, diciamo, che non ha vinto nulla e poi sembra più spontanea quella che ha vinto. Quella sotto non è che non è spontanea perché stanno fuggendo, però dietro si vederà dei cameraman e dei soldati fermi tra di loro. La prima, ripeto, sembra una foto meno costruita, più spontanea, con meno elementi di disturbo. Giuseppe, grazie. Tutte cose buone e giuste. Io ne aggiungo un'altra, ce ne aggiungo un altro paio. Allora, vedete, qui è determinata la bambina, no? Non si nota più la disperazione di prima. Le cose che hai detto tu sono esattamente giuste, ma ce n'è un'altra che vi voglio dire e che ha a che fare con il discorso che sto facendo. L'orizzonte. Voi sapete che la linea dell'orizzonte è sempre all'altezza dei nostri occhi. Se noi ci abbassiamo, si abbassa la linea dell'orizzonte, se ci alziamo, si alza la linea dell'orizzonte. Questo nei corsi di disegno che faccio è una delle cose che dico, no? Allora, la differenza fra il disegno e la fotografia è che nella fotografia molte cose la macchina le fa da sola, le sa, no? Nel disegno bisogna che il disegnatore le conosca. Qui il fotografo si è abbassato. Vedete che la linea dell'orizzonte è più bassa? Si è piegato. Qui no. Piegandosi è diventato uno di questi bambini, cioè diciamo è entrato dentro la scena. E questo, oltre alle cose che Giuseppe hai detto tu, ha fatto la differenza. Quindi questo per parlarvi della ripresa a livello, no? Nella ripresa a livello noi siamo, diciamo, sullo stesso piano del soggetto fotografato. Ecco, qui ci siamo abbassati e noi siamo il terzo bambino che sta giocando con questi altri bambini. Nella ripresa dal basso, adesso il soggetto ci sovrasta. Quindi noi gli diamo importanza, lo esaltiamo. E una cosa ma è secondaria, lo isoliamo perché lo poniamo nello sfondo del cielo, no? Quindi se vogliamo esaltare un soggetto lo riprendiamo dal basso. C'è una foto di Bischoff, non so se ve la ricordate, di una mendicante col bambino in braccio che tende la mano, ripresa dal basso. Cioè Bischoff dà dignità a questa donna, proprio attraverso la ripresa dal basso. Ecco, questa è la ripresa dal basso. Vabbè, questo lo saltiamo, andiamo avanti. L'inclinazione della macchina, abbiamo parlato prima, ovviamente. Ok. Allora, adesso fra un quarto d'ora mi fermerò, così per non tediarvi e poi riprenderemo, se volete. Allora, un altro elemento del linguaggio fotografico è il, diciamo così, l'inquadratura verticale o orizzontale. Noi generalmente utilizziamo foto rettangolari, la Rolleiflex della foto quadrate. È lo stesso panorama. Varia l'inquadratura. Secondo voi, che differenza c'è? Cosa comunicano di diverso queste immagini, se comunicano qualcosa di diverso? se qualcuno vuole intervenire. Se non c'è nessuno lo faccio io, ci provo. Va bene, sei? Francesco, Francesco. Francesco. Prima Giuseppo, ora Francesco, benissimo. Allora, l'immagine... Grazie. Figurati, l'immagine verticale io la vedo come una sorta di immagine chiusa, cioè non solo è verticale l'immagine, ma è verticale anche il soggetto principale. Ed è la vedo come chiusa perché mi fissa il soggetto principale e lo schiaccia in quella inquadratura verticale. In quella inquadratura invece orizzontale, nonostante il soggetto principale sia verticale, quindi come dire, potrebbe andare in controtendenza, però è visionabile più ampiamente l'orizzonte, quindi il soggetto principale dialoga maggiormente con il suo contesto, quindi allarga la visione della fotografia, insomma. Sono queste, io colgo queste differenze. Sì, sì, Francesco l'ha detto bene, l'ha detto bene. Cioè, su quella di sinistra è messa in evidenza l'altezza della paleolica, no? Il soggetto è la paleolica, di cui ne è sottolineata l'imponenza, l'altezza. Adesso è il paesaggio, quindi perde importanza la paleolica e diventa uno dei tanti elementi che circondano questa strada. Quindi la scelta del verticale orizzontale non può essere casuale, no? Deve essere meditata perché racconta cose diverse. Questa è una immagine che scattata molto tempo fa, io facevo una certa strada e notavo sulla collina questa teoria di alberi, no? Proprio sulla parte alta della collina. Mi sembravano come tanti soldatini in fila, non ben ordinati uno sull'altro. Allora un giorno mi sono fermato e ho fatto questo scatto. L'ho tagliato in formato panoramico. Noi purtroppo molto spesso perdiamo un elemento del linguaggio fotografico che è il taglio, perché fotografiamo sempre rispettando il rapporto fra i lati del sensore, no? che è di 4 a 3 e ci perdiamo un elemento del linguaggio fotografico, no? Adesso con Photoshop non ci vuol niente a modificare il taglio. Se io avessi usato un formato 3 a 4 avrei incluso larga parte di questo primo piano di erba secca, no? E quindi avrei tolto, diciamo, un po' di importanza a questi alberi. Questo taglio panoramico invece mi sottolinea proprio quello che mi aveva colpito e che io volevo trasmettere. Questa sequenza di alberi uno dietro l'altro. Anche il formato quadrato dice delle cose che non dice il formato rettangolo, lo vedremo, ma chi lo sa, perché non sperimentare con formato circolare, con formato pentagonale e così via? Allora, verticalità e orizzontalità. L'orizzontalità, quindi degli elementi messi in orizzontale, ci comunicano parità, quindi di ugualianza. Nella verticalità noi sottolineiamo la gerarchia, quindi una diversità. Sempre perché, come vi ho detto all'inizio, noi siamo nati e vissuti in uno spazio gravitazionale, per cui l'alto e il basso sono diversi, hanno significati diversi. anche perché noi diamo importanza all'alto, no? Il paradiso è nei cieli, nell'alto dei cieli, no? L'inferno è agli inferi, sotto. Nelle statue mettiamo dei piedistalli per sollevare le immagini, dare loro importanza. Quindi l'alto e il basso hanno dei significati anche di tipo morale, no? Forse la nostra esperienza di bambini che vedevano nell'adulto alto, la potenza, ci ha condizionati in questo modo di vedere. Il quadrato, il formato quadrato ci dà staticità, no? Perché? Allora, noi possiamo girarlo come ci pare il quadrato. Il quadrato rimane sempre uguale a se stesso. Il rettangolo no, se lo facciamo ruotare, cambia. Quindi staticità nel quadrato, dinamicità nel rettangolo. Vediamo, poi ci fermiamo un attimo, allora vediamo un po' la psicologia della forma, no? Qualche elemento di... Allora, noi non vediamo con gli occhi. Sì, vediamo con gli occhi, ma cosa si forma sulla retina? E si formano una serie di chiazze di diversi... Il bambino quando apre gli occhi vede o non vede? Vede, ma non sa quello che vede. E la prima volta che apre gli occhi, sulla sua retina compare una serie di chiazze in cui non sa dare significato. Poi mano a mano, anche col tatto, eccetera, quelle macchie cominciano ad acquisire dei significati. Allora è il cervello che traduce e interpreta quello che cade sulla retina. Quindi noi vediamo col cervello e attraverso la nostra psicologia, la nostra storia, la nostra cultura. E quindi se vogliamo capire i fenomeni della visione, dobbiamo capire, appunto, alcune cose della psicologia della forma. Allora, vediamola un pochettino, magari poi facciamo qualche esempio. Ora, una serie di linee equidistanti lo vediamo come un gruppo omogeneo, ma basta che avviciniamo due a due queste linee che lo spazio tra le linee più vicine ci sembra il pieno, quindi sembrano delle colonne, e lo spazio fra le linee più distante ci sembra un vuoto. Eccolo qua. Allora, noi vediamo tre raggruppamenti, ma questi raggruppamenti sono nell'immagine e dipendono dal punto di vista. Se io cambio il punto di vista, magari quest'albero può fare gruppo con altro albero. Questa la conoscete tutti. legge della vicinanza. Questo gruppo fa parte a sé. Questi altri pretini sono una cornice all'immagine. Legge della somiglianza. Vedete, noi tentiamo a fare due gruppi, anche se queste linee sono equidistanti, facciamo un gruppo con le linee piene e un gruppo con quelle a tratteggio. In basso, queste due linee a sinistra ci danno l'idea di uno spazio vuoto. Quelle a destra, anche se ci sono delle aperture, le percepiamo come uno spazio chiuso. Vediamo questo esempio. Allora, io ho un compare che a Natale ogni volta mi invia una cassetta dell'olio Carli. E questa l'ho fotografata perché era il centenario. E guardate che cosa si sono inventati i grafici. Allora, questa casa è nata nel 1911 e nel 2011 compiva cento anni. Allora ha colorato di rosso l'uno e lo zero. L'uno della prima data, lo zero della seconda. E poi ha aggiunto quest'altro zero. Questi numeri qua, proprio perché di colori diversi, fanno gruppo a sé. i grafici sono grandi conoscitori della psicologia della forma, oltre che essere molto creativi. Legge della somiglianza. Legge della continuità. Qui noi abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette segmenti. Ma a noi ci sembra che questi tre segmenti facciano parte di una unità. Non è così. Ma è il cervello che costruisce questa cosa qui. Ci sembra di vedere due colonne con una linea dietro. Continua. Ecco qua. Se guardiamo questa immagine, rimaniamo un po' sconcertati. Dice possibile che quest'uomo abbia dei femori di tre metri lunghi. Poi è chiaro che ragionando capiamo di che si tratta. C'è un'altra persona nascosta dalla colonna e quelle gambe fanno parte della seconda persona. Però il cervello all'inizio ci fa restare stupiti, no? Perché lega, proprio per quella legge psicologica, questi due elementi alla stessa persona. Mi fermo un attimo, eh? Così, se volete, eh? Andiamo a fare delle domande. Altrimenti me lo dite. Se volete continuare, continuiamo. Ditemelo voi, eh? Io interrompo un attimo la condivisione. Ci sono domande, osservazioni, riflessioni? Io sarei capace di continuare per quattro ore, però. Lo so, immagino. Aspetto vostro, mi fermo chiaramente. Voglio... Ho fatto l'insegnante io. Aggiungo io una riflessione. Vediamo un pochettino se riusciamo a sviluppare un ragionamento. Io credo che nella composizione fotografica tutti gli elementi che tu hai sottolineato sono importanti, concorrono poi, diciamo, al risultato finale. Però c'è un elemento su cui io insisto spesso quando chiacchieriamo di fotografia, che è quello relativo al rapporto che c'è tra il soggetto principale e il suo contesto, e il contesto in cui il soggetto principale è immerso. Io credo che eh in una buona immagine questo rapporto tra il soggetto principale e il suo contesto debba essere un rapporto equilibrato. Io mi esprimo così, cioè ci deve essere il giusto equilibrio. Penso che se ci fosse uno squilibrio, cioè una prevalenza o del soggetto principale o del suo contesto a scapito dell'altro, la foto che 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 risulta alla fine potrebbe essere una buona foto ma non è un'ottima foto. Perché credo che il contesto e il suo soggetto che lo attraversa siano due aspetti della stessa visione che abbiamo al momento in cui fissiamo l'immagine e quindi una buona foto fissa in equilibrio questi due elementi. Io insisto molto su questa ricerca perché ovviamente l'inquadratura poi è l'elemento come dire tecnico che 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 chiude il discorso, lo chiude bene o lo chiude male a seconda dei casi. Non so cosa ne pensi su questo su questa riflessione. Beh allora sono d'accordo nel senso che per esempio è come se un teatro, quindi una composizione teatrale c'è sempre il personaggio principale e poi ci sono dei personaggi di contorno importanti. Se sono tutti personaggi principali si fa un po' di confusione. Quindi in una foto ci deve essere il protagonista e poi dei coprotagonisti, cioè altri elementi che rafforzano il racconto ma che non debbano sovrastare l'elemento principale. Bisogna stare attenti a eliminare gli elementi di disturbo in una immagine perché ciò che è in più non è soltanto inutile, è dannoso. Cioè quando si fa un discorso, se il discorso è diretto, senza fronzoli, vi colpisce, vi appassiona, vi rimane. Ma se un oratore comincia da destra, sinistra, ripete, fa, vi annoiate. Però quando noi facciamo una fotografia, prima di scattare l'otturatore, all'inizio magari è importante riflettere, poi magari con l'esperienza il tutto avviene in frazione di secondo. Noi dobbiamo chiederci perché questa scena mi ha colpito e ho deciso di fotografarla. Che cosa in questa scena mi ha colpito? Allora, cosa debbo includere? Qual è il miglior punto di vista tale che metta in evidenza ciò che mi ha colpito e che voglio raccontare? Quali sono gli elementi di disturbo che è meglio che tolgo? Quindi prima di scattare, proviamo a spostarci, a cambiare, diciamo, inquadratura. Ma quello vediamo. Ho degli esempi e delle animazioni che ho fatto per approfondire questa parte del discorso che è sicuramente molto molto importante, molto importante. Se volete riprendo per non... Ci sono altre... ci sono altre osservazioni, altre domande? O altri punti di vista? Attenzione. Altrimenti facciamo andare avanti Enrico. Francesco, sono Michele. Volevo sottolineare quanto hai detto prima, perché mi era venuto in mente quando sei intervenuto sulla fotografia delle paleoliche. La fotografia orizzontale, torniamo quindi facciamo un piccolo passo indietro, la fotografia orizzontale a mio avviso sembrava più equilibrata, perché l'elemento verticale sposava con una superficie orizzontale più vasta che inglobava altri elementi. E quella per me era la più corretta, perché l'altro elemento, quello verticale, cioè l'altra fotografia, quella verticale, aveva l'elemento paleolica, innanzitutto centrale, che veramente assorbiva tutto dell'immagine ed era quasi un elemento di disturbo. Poi è un fatto soggettivo, io la vedevo così. Perfetto Michele, ti ringrazio perché mi porti a fare un'osservazione. Allora, tu se eri lì avresti fotografato in quel modo, perché quello che ti aveva colpito era tutta la serie di elementi e il paesaggio, perché era quello che tu volevi raccontare. Cioè la tua personalità, il tuo essere, il tuo modo di vedere, diciamo, ti portava a osservare in quel modo. Un'altra persona, invece, poteva essere attratto da queste grosse strutture, eccetera, e avrebbe fotografato in verticale. Sono due scelte giuste. Dipende esclusivamente da quello che ciascuno di voi vuole raccontare e da che tipo di emozione quel paesaggio in ciascuno di noi è riuscito a suscitare. Tutte scelte giuste. Però chiaramente ciascuno, sì. Noi credo che dovremmo imparare ad usare questo, nel senso che l'orizzontalità trasmette, credo, un po' più pace, più tranquillità. La verticalità è un po' più, meno rassicurante, perché credo che dovremmo imparare ad usare queste cose per, in modo, diciamo, razionale, per trasmetterle poi, no? Eh sì, perché la verticalità ci racconta di un alto e di un basso e quindi di una possibilità di caduta, no? L'orizzontalità ci racconta di una stabilità. Assolutamente sì. È di come siamo condizionati dal fatto che viviamo in un campo gravitazionale. Se fossimo dei fotografi dello spazio faremmo tutti altri ragionamenti adesso. Non sapremmo che significa l'alto e il basso. Allora io vado, è sempre interessante, ogni intervento dà sempre degli stimoli in più e dei momenti di riflessione. Allora io vado avanti per non evitare di andare troppo in là, magari di annoiarvi. Allora immagino che lo schermo lo vediate bene, no? Adesso un altro concetto importante è quello della struttura del quadro, quindi l'inquadratura che generalmente è un rettangolo. Allora il rettangolo, anche se non lo vediamo, ha una sua struttura interna che noi anche inconsciamente percepiamo. Allora noi distinguiamo due tipi di strutture, una struttura portante una struttura modulare. Allora la struttura portante è data dalle diagonali e dalle mediane, no? L'aquilone l'ho messo lì perché se voi costruite un aquilone dov'è che mettete le stecche? Lungo le diagonali, no? Perché ci assicurano la rigidità e la robustezza della struttura. Questa si chiama struttura portante. La struttura modulare invece è una suddivisione dello spazio in tanti sottospazi, in tanti moduli che diciamo hanno le stesse proporzioni dello spazio totale ma sono più piccole. Allora vi ho parlato della costruzione dell'aquilone, la costruzione dove mettiamo le stecche e anche la struttura modulare ha un rapporto con le costruzioni dell'uomo, no? Perché noi costruiamo un muro con i mattoni? E perché i mattoni hanno una dimensione tale che possono essere agevolmente presi in mano senza che ci spaccano la schiena e quindi possono essere sistemati per costruire delle strutture più grandi, no? Quindi a misura d'uomo c'è poco da fare. Quando mettiamo su una cucina, la cucina è fatta di moduli, quindi scegliamo i vari moduli e li disponiamo insieme per... Quindi questa è una cosa molto comune, molto importante. Vediamo queste due strutture, che cosa, che senso hanno per quanto riguarda la fotografia, no? Quindi ripeto, noi anche se non le vediamo, le percepiamo, le intuiamo. Vedete questa immagine? È stata disposta la ragazza lungo la struttura portante, lungo la diagonale del quadro. Allora, quando gli elementi sono disposti lungo una di queste linee, noi abbiamo una sensazione di equilibrio, no? E quindi un piacere estetico, no? Non di disordine e di ordine. Guardate questa. Questa è una mia foto. Ho usato un taglio quadrato, perché vi ho detto prima che il quadrato dà un'idea di stabilità, e poi ho disposto questo stelo lungo la diagonale. Chiaramente è girato la macchina, uno lo può fare anche in post-produzione, no? Quindi il filo d'erba entra nell'angolo inferiore destro, esce nell'angolo superiore sinistro, e ho messo al centro questa ghiocciolina che è ferma. Allora, l'ho messa al centro, quindi mettere qualcosa al centro significa porla in una situazione di equilibrio. Ciò che è al centro ci dà equilibrio, è al centro delle due diagonali. E ho usato il formato quadrato perché anche questo formato ci dà stabilità. Quindi queste scelte compositive rafforzano questa sosta di questa ghiocciolina sul filo d'erba. Allora, immaginate che sta per entrare in scena una persona. Da che parte la vedete entrare? Io penso da sinistra. E quindi questa scala per voi la vediamo in discesa, anche se una scala non è né in discesa né in salita, no? Ma ci immaginiamo un uomo che la discende. Qui ce la immaginiamo in salita. Perché? Perché siamo condizionati dal nostro modo di scrivere e di leggere. Noi scriviamo e leggiamo dall'alto in basso e da sinistra a destra. E questo condiziona la percezione che abbiamo dello spazio fotografico. Quindi qui questa scala ci sembra in discesa e qui ci sembra in salita. Allora, Kandinsky, guardate che fotografia e pittura sono legate. Quindi se vi andate a studiare qualche libro di pittura, va bene anche per la fotografia, cioè in molti corsi di fotografia importanti che durano più di un anno, ci sono dei corsi di disegno, sempre. Allora, questa diagonale ci sembra in salita e Kandinsky la chiama diagonale dirica. Questa ci sembra in discesa e la chiama diagonale tragica. Ripeto, dipende questo dal nostro senso di lettura. Guardate questa famosissima immagine. Questa è tratta da una parabola del Vangelo dove si parla di ciechi. Se uno segue un altro cieco, finisce nel fosso come il primo cieco. Vedete che questo è caduto nel fosso e gli altri che stanno seguendo cadranno nel fosso anche loro. Guardate la disposizione, l'andamento di queste persone da sinistra a destra. Se io semplicemente inverto l'immagine, no scusate, non ha lo stesso effetto. Non abbiamo più questo senso di caduta nel precipizio. Eppure la stessa immagine, non la faccio vedere. Vedete come siamo condizionati dal nostro senso di lettura? Guardate questa immagine di questa barca. Questa barca è in sosta, lo sguardo che fa parte da sinistra, arriva e si ferma su questa imbarcazione, che sembra fare il capolino da dietro in muro. Se io la inverto, cambia tutto. C'è lo sguardo, arriva qui e continua verso destra. Cambia assolutamente la percezione di questa immagine. Guardate questa immagine. L'approdo. Queste barche sembrano andare a riva. Se la inverto sembrano che partano, si allontanino dalla riva. Questa è di Cartier-Bresson. Un conto è vederla così, l'immagine. Noi seguiamo questo personaggio che sta uscendo, no? E lo seguiamo nel verso contrario alla lettura. Se noi la invertiamo, è diversa la sensazione. Questa è più naturale, l'uscita dall'immagine. Quindi quasi quasi non lo stiamo più seguendo. E passiamo a questa fatidica regola dei terzi, che mi fa venire l'orticaria quando io ne sento parlare. Allora, al corso ufficiale, mi ricordo che il tenente che ci faceva regolamenti militari, il primo giorno si presentò e disse, sono il tenente Ciancio, io sarò il vostro insegnante di regolamenti militari. Ragazzi, allora eravamo ragazzi, ricordatevi che le regole servono a chi non si sa regolare. Ora, questo è sbagliato, le regole sono importanti, ma in campo artistico è sacrosanto. Le regole possono essere delle catene. Allora, conosciamo questa regola dei terzi, ma stiamo attenti perché non basta per fare una bella immagine seguire la regola dei terzi o la regola della sezione aurea, perché se così fosse potremmo creare un software e la macchina in automatico sposterebbe gli elementi nel posto giusto e la macchina farebbe dei capolavori. Il linguaggio fotografico è talmente complesso che una formuletta tipo la regola dei terzi assolutamente non può aiutarci a fare delle buone immagini. La conoscete tutti, la regola dei terzi, quindi sapete che... E questo fa parte, vi ricordate, della struttura modulare del quadro, no? Quindi se dividiamo l'immagine in tre fasce orizzontali, in tre fasce verticali, i punti di incrocio sarebbero i punti forti dell'immagine, ci si dice non mettete mai l'orizzonte al centro, mettetelo nel terzo inferiore se volete far risaltare il cielo, nel terzo superiore se volete far risaltare la terra, non mettete mai un elemento al centro o sul terzo di destra o sul terzo di sinistra. Allora, questa è un'immagine che segue la regola dei terzi. Questa casetta è posta in un incrocio di quelle due linee, terzo superiore e terzo di destra. Questa segue la regola dei terzi, ma io quando l'ho scattata non pensavo assolutamente alla regola dei terzi. Quindi poi ce l'ho trovata dopo. E poi c'è la famosa sezione aurea, che tutti conosciamo, c'è qualcuno che addirittura la disegna sul display o qualche macchina ha la possibilità di farla comparire nel mirino. Quindi la regola dei terzi, la spirale aurea, le nostre card, hanno questo formato, cioè il rapporto fra i due lati di 1,618, che è il numero di fidi, il numero aureo, la divina proporzione. Peccato che i sensori delle nostre macchine fotografiche non abbiano questo rapporto. Quindi già questo. Allora... Questa è una foto che ho fatto tempo fa. Guarda un po', c'entra dentro la sezione aurea, ma è a posteriori. Io quando l'ho fatta non ci ho pensato per niente alla sezione aurea. E non è che questa è bella perché rispetto alla sezione aurea. Allora, il rettangolo aureo è un modulo, struttura modulare. Perché? Allora, guardate questo rettangolo. I rapporti dei due lati sono quelli là. Quelli del numero aureo, no? Se io questo rettangolo lo divido in un quadrato, cioè taglio un quadrato, quindi riportando il lato corto sul lato lungo, quello che mi rimane è un altro rettangolo aureo. Se io faccio la stessa cosa su questo secondo rettangolo, mi rimane un altro rettangolo aureo. Posso procedere così all'infinito. Vediamo un'altra cosa. Allora, sempre il punto di vista. Qui in alto io mi trovo nella posizione 1 e ho questi due alberi che mi impallano la casa. Mettiamo che sono un architetto, quindi devo ristrutturare questa casa. Mi serve una foto per poi studiarla un po' a tavolino a casa. Come faccio per questi due alberi che mi danno fastidio? Ritaglio? Assolutamente no. Allora, basta che io mi avvicino. Immediatamente questi due alberi si allontaneranno e mi libereranno la casa. Cioè, guardate, cambiando il punto di vista, io posso spostare all'interno dell'immagine gli elementi. Come mi pare, come voglio. Vediamo di capire meglio questa questione, perché poi dopo se la capiamo, intuitivamente sappiamo dove porci nella realtà. Guardiamo la prima immagine. Io mi trovo a 20 metri dalla casa e gli alberi sono a 10 metri. Quindi la casa è a una distanza doppia da me rispetto a quella degli alberi. Allora, sappiamo bene che le cose più si allontanano, più si rimpiccioriscono nell'immagine, e anche nella retina, no? Quindi la casa ha una distanza doppia rispetto agli alberi. Che cosa succede se io mi avvicino? Quindi 10 metri, 20 metri? Mi avvicino di 5 metri. Adesso la casa non è più al doppio della distanza degli alberi, è al triplo. Quindi la casa è distante tre volte. Quindi rispetto agli alberi la casa si rimpicciolisce di più rispetto a prima, no? Quindi si ingrandiscono gli alberi, si ingrandisce anche la casa perché mi sono avvicinato, ma gli alberi si ingrandiscono di più della casa, perché il rapporto di distanza è variato. Lo vediamo con l'esempio, quello che abbiamo detto prima. Un altro modo è quello di spostarci di lato. Alzarci o abbassarcici da visuali diversi. Se ci abbassiamo abbiamo la visione della formica, se ci alziamo abbiamo quella di una farfalla, di una rondine. Se la incliniamo la macchina abbiamo delle deformazioni prospettiche, delle linee cadenti, così come le chiamiamo in fotografia. Allora, sempre punto di vista, perché proprio quel fenicottero sta nel riflesso del Sole e non gli altri. Se io volessi portare il fenicottero alla sua destra, sotto il Sole, cosa dovrei fare? Mi dovrei spostare a destra. Cioè non è che quel fenicottero sta nel cerchio di luce. Sta nel cerchio di luce perché la mia posizione è quella, il mio punto di vista è quello. Se mi sposto, in quel cerchio di luce entra un altro fenicottero. Quindi la scelta del punto di vista è fondamentale. Guardiamo questa. Ho una montagna lontana, simbolizzata con questi pallini azzurri, e ho degli alberi vicini, li ho simbolizzati con queste macchie verdi. Adesso vedete che la montagna è più bassa degli alberi, è al di sotto degli alberi. Che cosa succede se mi allontano? Se mi allontano tutto si rimpicciolirà, anche gli alberi e la montagna. Però gli alberi che sono più vicini si impiccioliranno molto di più. rispetto alla montagna. Adesso addirittura gli alberi sono alti come la montagna. Perché? Perché se io mi sono spostato indietro di dieci metri, adesso sto a venti metri rispetto agli alberi, cioè mi sono allontano del doppio. Ma dieci metri rispetto alla montagna che è lontana a dieci chilometri, sono niente. Mi allontano ancora di più, adesso gli alberi sono diventati più piccoli della montagna. Quindi noi, cambiando il punto di vista, possiamo modificare le proporzioni degli elementi all'interno dell'immagine. Guardate questa immagine qui. Allora, che cosa ho voluto raccontare? Questa similitudine del profilo dei fiori con la montagna. Ma come ho fatto per realizzare questa immagine? Allora, intanto mi sono dovuto spostare avanti e indietro. Perché? Perché ho voluto rendere le dimensioni di quel profilo dei fiori simili alle dimensioni della montagna. Se mi fosse allontanato troppo sarebbe stato molto più piccolo quell'ammasso di fiori. Se mi fosse avvicinato molto più grande. Quindi, vedete, sarebbe ingrandito troppo o impicciolito troppo. Quindi ho dovuto cercare la distanza giusta andando avanti e indietro per rendere simili i due profili. Ma poi mi sono dovuto spostare a destra o a sinistra per allineare il culmine dei fiori con il culmine della montagna. Quindi, altro spostamento. Ma poi mi sono dovuto alzare in alto o in basso per porre leggermente, qui la ripoperta, no? E qui, quindi ho dovuto anche cercare uno spostamento alto o in basso per accostare nel modo giusto i due profili. Spazi negativi. Allora, noi non facciamo caso all'importanza degli spazi negativi. Cos'è lo spazio negativo? È il vuoto. Ma nella fotografia non esistono i vuoti. Nella fotografia un'ombra ha la stessa consistenza degli altri elementi, perché è una sagoma, no? E lo spazio negativo, cioè quello che è vuoto, nella fotografia è una forma. E qui, naturalmente, ce l'ha scritto Enrico, però io ho reso concreti i vuoti e vuoti pieni. In disegno si usa questo qui, no? Io posso disegnare un qualcosa colorando gli spazi. Qui, per esempio, ho fatto una foto dei rami. Se cominciate a guardare con quest'ottica, scoprirete un mondo nuovo. Cioè, se guardate gli spazi fra gli oggetti, in questo caso, per esempio, il cielo è come se i rami avessero frantumato il cielo, vedrete tante forme che prima non vedevate. E molte immagini sono efficaci e non sapete perché. Perché sono ben disposti i vuoti, gli spazi negativi. Qui ho trasformato in negativo e colorato diversamente gli spazi con Photoshop per rimarcarne, appunto, queste forme. Vedete come questi vuoti, questi spazi negativi, che sono queste tre zone triangolari scure, sono importanti in questa composizione. Quali sono gli elementi che ci raccontano della tridimensionalità in uno spazio bidimensionale? La prospettiva, la variazione delle dimensioni, gli elementi che si allontanano si imbiccioliscono, la sovrapposizione, ciò che in primo piano copre ciò che in secondo piano. E però ce ne sono delle altre. Per esempio le ombre. Le ombre danno un senso di profondità. Se fotografiamo in luce laterale o in controluce, aumentiamo la sensazione di profondità. La prospettiva aerea, gli elementi man mano che si allontanano, diminuisce il contrasto, diminuisce la visione dei particolari e tutto diventa più chiaro e nelle immagini a colori tutto tende verso l'azzurro. E poi c'è un altro elemento che è il gradiente della densità di tessitura, cioè degli elementi disposti a una certa distanza costante si infittiscono mano a mano che si allontanano nello spazio. Un elemento che è proprio della fotografia e che poi la pittura ha imparato a conoscere, che prima tutti i quali erano dipinti in maniera tutto perfettamente a fuoco, fuori fuoco. Quindi immaginate se io avessi fotografato queste roselline con un diaframma tutto chiuso e queste roselline sarebbero confuse con lo sfondo. Invece lo sfogato le ha staccate dallo sfondo. Gradiente di tessitura. La paura rimane a mano, si infittiscono con la distanza e questa dà una sensazione di spazio. L'immagine fotografica ha quattro elementi fondamentali. Vediamoli quali sono. La forma. Quando noi fotografiamo una silhouette distruggiamo tutto. Distruggiamo la tessitura, distruggiamo il volume, distruggiamo il colore. Ci rimane la forma. Ecco che quando facciamo una silhouette è importante la forma, quindi dobbiamo stare molto attenti alla composizione. Il volume è dato dal chiaroscuro, quindi dalla luce. Sapete benissimo che una luce laterale è l'ideale per raccontare i volumi. Poi c'è il colore. Non lo faccio, il discorso sul colore, ma sarebbe lunghissimo. Fotografare il colore o non fotografare il colore. E poi c'è la tessitura, cioè la trama di superficie, vale a dire la sensazione tattile che una immagine riesce a darci. Ecco, in queste immagini c'è tutto quanto. Allora, bianco e nero e colore li dobbiamo usare in maniera appropriata. Questa immagine al colore sarebbe stata sbagliata. Perché? Perché qui tutto si gioca sui contrasti chiaro-scuro. C'è quest'uomo sulla metà sinistra dell'immagine che spicca perché scuro su un territorio chiaro. Sulla destra c'è questo gruppo di cigni che spicca al contrario perché è chiaro sull'oscuro. Qui questa immagine deve essere assolutamente a colore se vogliamo raccontare la luna, no? Altrimenti racconteremo soltanto la luminosità. Ma se ci colpisce questa gamma di tinte, l'immagine non può che essere a colore. Evitate le tangenze se non vi servono per esprimere un qualcosa di particolare. Ripeto, attenzione alle regole. Cioè, voi dovete utilizzare gli elementi dell'immagine e disporli in un certo modo in maniera che riescano a comunicare nel migliore dei modi quello che voi attraverso quell'immagine volete comunicare. Quindi in generale, come in questo caso, una tangenza è fastidiosa e sbagliata, no? Perché sembra che questa ragazza sia appoggiata al lato dell'immagine. Quindi come vi ho detto prima dobbiamo stare attenti al rapporto degli elementi fra di loro e con i lati dell'immagine. Qui in questo caso il taglio è fastidioso. Se dobbiamo tagliare, tagliamo in maniera drastica. Altrimenti non tagliamo. Rapidamente, non c'è rimasto moltissimo. Faccio vedere alcune immagini composte in un certo modo, no? Qui c'è una similitudine di atteggiamenti. Tutti e due stanno riposando, ma c'è un contrasto chiaro-oscuro che si inverte nel primo piano e nel secondo piano. E quello che il personaggio fondamentale, come diceva Francesco prima, in questo caso è l'asino in primo piano. E l'uomo che sta riposando è un coprotagonista che rafforza il racconto perché ripete un po' l'atteggiamento del primo. Quello che abbiamo detto un po' prima con il gesto alto, no? Sono tutti elementi uguali, tutti quanti tulipani, ma questo spicca perché di coloro diverso. Dove ci cade l'occhio, il piede da mezzo? Su questa persona. Perché rompe l'uniformità, la monotonia dell'immagine. Quindi il punctum è qui. La sfogatura serve per mettere in evidenza un elemento. Qui col grande formato contro l'obiettivo si può ottenere questo tipo di sfogato. sfondo uniforme che evita distrazioni, no? E questi capelli scuri fungono da cornici all'immagine. Fanno la cornice. Qui la messa a fuoco è totale. Perché? Perché questa immagine gioca su un contrasto. Qui c'è un mendicante che sta mangiando un pezzo di pane e dietro c'è il grande hotel. Ripetizione, ritmo. Diagonale. Questa diagonale è parallela alla diagonale del quadro. Questa immagine è divisa in due metà, quasi metà. Una parte scura e una parte chiara. Due triangoli. All'interno di questo triangolo scuro spiccano tre elementi. Il volto, la mano e i fiori. semplificate, semplificate. Il meno è sempre più. Regola dei terzi. E qui qualcuno direbbe vabbè, ma qui non hai usato la regola dei terzi. E meno male che non hai usato la regola dei terzi. Perché questa staccionata sta a dividere la terra dal cielo. La forza di questa immagine, molto semplice, è proprio questa. E questa cosa viene raccontata proprio dal fatto che la staccionata è posizionata esattamente a metà. punto di vista particolare, no? In consueto, la maggior parte dei fotografi avrebbe fotografato dall'altra parte. prospettiva aerea, l'abbiamo detto, va bene, guardate che semplicità, che pulizia, che forza. Tutto, questa linea qui porta a quest'albero isolato. Se guardate questa superficie chiara, è identica se non ribaltata a questa superficie scura. Guardate come l'occhio entra nell'immagine e si ferma qui su questo albero, che non è posto sulla regola dei terzi. Questo orizzonte non rispetta la regola dei terzi. Quindi stiamo attenti. Tempo fa ho litigato con un litigato. O, diciamo, detto la mia su un giurato che voleva bocciare una fotografia a un concorso perché non rispettava la regola dei terzi. E' entrato innescante scienze lui, ma io non posso sentire dire questa foto è bella perché rispetta la regola dei terzi. Variazione con ripetizione. Diagonale, questa è sperlonga, è una ripetizione di elementi, ma all'interno di questi elementi ci sono vite e situazioni diverse. Non c'è la regola dei terzi. Non c'è la regola dei terzi. Questa la feci a Roma quando c'era la festa della finanza. Avemmo un pass, andammo a fotografare. Ricordo c'era l'allora presidente e mi ricordo c'erano dei cecchini su un muro con i fucili di precisione puntati. Allora, ricordatevi quello che vi dico adesso. Non sempre il significato di un'immagine coincide con il significato della cosa fotografata. Ve lo ripeto perché è importante. Non sempre il significato di un'immagine coincide con il significato della cosa fotografata. Perché? Quale era il significato della cosa fotografata? No, nella realtà c'erano una serie di statue e degli elicotteri che volavano. Però l'istante dello scatto e il punto di vista che ho scelto mettono in relazione questa statua che sembra voler abbattere l'elicottero. Quindi il significato di questa foto è diverso dal significato della cosa fotografata. Questa foto acquista un significato grazie alle scelte compositive fatte. E qui ritardai a scuola solo di cinque minuti perché stavo uscendo e vedi questa scena, tornai a casa dal parcheggio, prese la macchina fotografica e scattai perché questo era autunno e io vedi una fiammata. Cioè, vedi delle fiamme con delle scintille laterali. Non potevo non fotografarlo. Allora, a casa ho preso la macchina fotografica, ho inquadrato dal basso per escludere le case e poi in Photoshop ho aumentato un po' la saturazione. Prima l'immagine forse appare un po' troppo. Nella realtà è un po' meno la saturazione. Allora qualcuno si strapperebbe le vesti perché direbbe ma va bene, ma hai falsificato, hai usato Photoshop. Molti dicono, qui nessuna post-produzione, non ho usato Photoshop. Questa è una grande illusione, ragazzi, una grande illusione. Perché? È una grande illusione pensare che la macchina fotografica riproduca la realtà. Non è così. La macchina fotografica vede la realtà a modo suo. Fate due fotografie con due macchine fotografiche diverse, con sensori diversi, obiettivi diversi, avrete due foto diverse. E poi che cosa è la realtà? Ma noi vediamo la realtà. Allora, noi siamo ciechi all'infrarosso e i serpenti lo vedono. Noi siamo ciechi all'ultravioletto e gli insetti vedono l'ultravioletto. La nostra retina vede soltanto una parte dello spettro elettromagnetico. I nostri occhi, la nostra retina deforma la realtà in un certo modo. Noi siamo abituati a questo. Ma la prospettiva è una deformazione della realtà. E allora qual è la realtà? La realtà è l'emozione che abbiamo provato e che ci ha spinto a fotografare. Quella è la realtà. E se noi, lavorando in post-produzione, cerchiamo di riprodurre quella realtà, quella sensazione, noi stiamo facendo una sacrosanta operazione di verità. Altro è il discorso di un reporter che falsifica la scena. Molti fotoreporter sono stati licenziati per questo. Anche per poco, no? Ma quando facciamo foto di questo tipo... E poi guardate che nell'analogico, quando non c'era Photoshop, mica è vero che non si alterava in post-produzione. altro che se si lavorava con le mascherature, le bruciature, la scelta del contrasto, eccetera, eccetera. Allora, finisco con... Tutti quanti avrete letto, credo, la camera chiara di Barth. Barth... Non ci sono immagini, è però un libro da leggere assolutamente. Parla, vi dico, del punctum. Cioè, che cosa è il punctum per Barth? Il punctum è quell'elemento dell'immagine che ci colpisce, ci punge. Avete fatto caso di una mostra di fotografie, no? I visitatori si spostano fra le foto, però ci sono alcune foto nelle quali si fermano a guardare. Altre dove passano più rapidamente. Quella foto dove si fermano, evidentemente c'è qualcosa che li ha colpiti. Vi pongo una domanda. Secondo voi, qual è il punctum di questa immagine? Che cosa vi colpisce subito? E che quindi diventa, ricordando quella che ha detto Francesco prima, il personaggio principale dell'immagine. Ecco, provate un pochettino a dire, secondo voi. Secondo me è il camera che ci guarda. Esatto, perfetto. E sai perché? Perché quando qualcuno guarda la macchina fotografica, guarda noi. e ci tira dentro l'immagine. Cioè noi ci sentiamo scoperti. Ci trasporta dentro l'immagine. un altro modo, mi ricordo di un portofolio, bello, un bel portofolio, in cui si raccontava, e se non ricordo bene cosa, però c'erano due immagini che io ho fatto togliere. Perché? Perché c'erano due persone, doveva essere una specie di street, un racconto in cui il fotografo doveva scomparire. Avete fatto caso nei film? Nessun attore guarda mai dentro l'obiettivo. Perché altrimenti rivela la presenza della macchina fotografica. Nessun attore guarda l'obiettivo durante le riprese. Perché se guarda l'obiettivo, venite scoperti, venite tirati dentro l'immagine. Cioè una persona che guarda l'obiettivo, vi guarda, e realizza un dialogo muto con voi. Voi non siete più delle persone nascoste che state guardando. Siete dentro l'immagine. Quindi in questo caso, anche se sicuramente questo personaggio che dipinge è un elemento importante, che attira la nostra attenzione, è questo signore che è piegato, quindi ancora di più attira la nostra attenzione, ma è questo cane che ci sta guardando, che diventa il protagonista dell'immagine. E qui il punctum è l'atmosfera, l'atmosfera del mattino, dell'alba. Il punctum di questa immagine qual è? Un'immagine che funziona c'ha un punctum, c'ha un elemento che ci attira. Bambino, no? Il bambino che guarda l'orologio. Eh, dici, quanto arriva l'intervallo? Quando la finisce la maestra di... No? E questo è il punctum. E qui qual è il punctum di questa immagine? E questa donna... Lo sguardo della donna che guarda il nudo. Grazie per l'attenzione, spero di non avervi annoiato. No, anzi. No, assolutamente no. Molto interessante, molto interessante. C'ho paura sempre di andare troppo lungo e di stancare. Ma io sarei stato ancora ad ascoltare. Insomma, è stato molto interessante, una distinzione perfetta e grandi spunti. Veramente grandi spunti. Grazie. Per me è stato un piacere. È un piacere, per me parlare di fotografia, delle mie passioni, è un piacere di stare con voi perché la cosa bella della fotografia è che ci si incontra per la prima volta e si sente un'aria di amicizia. Come se ci fossimo incontrati già altre volte. È reciproca la cosa. Sì. Sì. Vero. Vero. Io ho finito, parlate voi. Grazie Enrico. Sono Michele. È sempre stata una mia pecca la composizione. Questa mi ha chiarito molto, molte idee. Per la verità avrei tante altre cose da chiedere, però non è la... Sarebbe stata di sentirti ancora perché dal punto di vista di un pittore la fotografia è molto, molto più interessante, secondo me. Grazie. Assolutamente. Grazie a te. Vorrei aggiungere solo poi un ultimo spunto di riflessione. Quando ha parlato della regola dei terzi, cioè il fatto che si può enfatizzare o il cielo o la terra non tenendo centrati i tuoi elementi, che sembrerebbe una cosa banale, ma non lo è. Quindi quello è stato qualcosa che mi ha fatto molto riflettere anche sul mio modo di, diciamo, un po' di vedere, di scattare anche nell'ambito del paesaggio. Sì, sì, ma voi ponetevi sempre che cosa voglio raccontare di quello che ho visto, cosa voglio raccontare a chi guarderà queste fotografie. E allora lì fate le scelte in maniera libera, non vi fate... non legare da stereotipi e da regola. Ragionate su il modo migliore di disporre gli elementi, di inquadrare il punto di vista migliore sempre al fine di trasmettere la vostra emozione o il vostro racconto, quello che è. Perché, insomma, la fotografia è sempre una forma di comunicazione. Io ho altri argomenti. Un argomento è la lettura dell'immagine fotografica e proprio parlo di questo, insomma. Cioè leggere un'immagine come la si legge e poi imparare a leggere significa anche imparare a scrivere. Cioè, chi sa scrivere bene è quello che ha detto molto. Quindi anche per comporre bene guardate tante immagini di fotografi importanti. Poi chiaramente alcuni fotografi importanti vi piaceranno, altri no. Ma questo è normale. Perché ci piace ciò che ci somiglia. se l'esistenzialità di quel fotografo, il suo modo di vedere la vita è simile al nostro, ci piace. Altrimenti non ci piace. Sì, sembri interpretato la fotografia come una lettura di un buon libro o la visione di un bel film, insomma. Eh sì, sì, voi siete degli scrittori più che dei pittori. Poi alla fine anche il pittore è uno scrittore e scrive con il pennello. Sì. E lo scrittore dipinge con le parole. Una frase vi suscita delle immagini in testa, no? Anche viceversa. Poi almeno per me cioè, allora vedere e guardare. Se noi apriamo gli occhi vediamo perché le immagini ci si formano sulla retina. Se guardiamo lo facciamo intenzionalmente e allora vediamo. No? Cioè, allora riusciamo a prendere contatti e a capire degli elementi che allora se voi fate una passeggiata per esempio da casa al lavoro e fate la stessa strada con una macchina fotografica completamente diversa. Voi con la macchina fotografica riuscite a vedere tante cose che normalmente non vedete. Quindi la macchina fotografica è come un microscopio che vi potenzia la vista. Il pittore e il disegnatore ancora di più perché il disegnatore è tutto quello che mette sulla tela su fio di carta e tutto è soltanto quello che riuscite a vedere e riuscite a vedere quindi c'è un contatto con la realtà prolungato no? Mentre il fotografo sicuramente c'è un'emozione fa delle scelte scatta costruisce l'immagine poi dopo quando la va a vedere vede tanti particolari che non ha notato durante durante lo scatto e poi c'è un'altra differenza è che quando vi vedono con la macchina fotografica in mano le persone specialmente oggi sono sospettose riguardano storto questo è a fotografare a me se è disegnato è diverso a me è capitato che sono un sacco di episodi belli che sono capitati una volta ero seduto a disegnare una chiesetta si è fermato ha parcheggiato un signore mi ha detto mi scusi mi sono accortato tolgo la macchina se le dà fastidio guardi non si preoccupi perché non la disegno oppure la disegno non c'è problema dopo una ventina di minuti è uscito con un passoio e due tazzine di caffè mi è venuto a free caffè la gente che si ferma a chiacchia e mi succede la stessa cosa con la fotografia stenoperica cioè con queste strane scatole di legno lì che sto fermo dieci minuti mezz'ora e la gente si avvicina e chiede se vai in giro con una reflex se ti guardano un pochettino con sospetto e so cose belle e poi dopo diciamo sono ci legano con belle amicizie e questo è un altro aspetto bello della fotografia io della serata di oggi della chiacchiera di Enrico chiacchiera tra virgolette ovviamente la cosa che ho apprezzato molto è che mentre Enrico raccontava le regole tra virgolette le regole diciamo come dire i vari accorgimenti i principi tecnici che possono condizionare la composizione di una fotografia ha sempre tenuto a precisare che non è che un principio è migliore dell'altro è che invece il fare una foto verticale orizzontale inquadrare in un certo modo anziché in un altro comporta delle differenze nel risultato e quella differenza deve essere usata mi pare che forse Raffaele De Santis ricordava anche lui questo concetto questa differenza deve essere consapevolmente usata dal fotografo per esprimere il suo punto di vista per esprimere la sua capacità espressiva in quella immagine quindi questo ho colto e ho colto positivamente perché molto spesso quando ci incontriamo quando discutiamo di fotografia c'è sempre qualcuno che fa la domandina ma qual è la regola giusta qual è l'obiettivo giusto qual è il modo giusto in fotografia per estremizzare possiamo dire che tutto è giusto l'importante è capire che nel momento in cui usiamo un obiettivo piuttosto che un altro una modalità di ripresa piuttosto che un altro una regola piuttosto che un altro lo facciamo consapevolmente perché quella regola quell'obiettivo quel punto di vista esprime in modo compiuto la nostra volontà di espressione in quel momento si Francesco vedi allora bello quello che hai detto no? e infatti all'inizio ho detto che una buona foto la fa la luce la composizione e l'idea no? allora molto spesso si vede una bella foto e c'è chi chiede ma che macchina che obiettivo hai usato mi dai i dati EXIF allora a un pittore di fronte a un bel disegno nessuno dice che pennella hai usato che matita che carta hai usato nessuno glielo chiede no? è così allora il punto è che occorrerebbe via via con l'esperienza col tempo per carità che tutti noi rendiamo il nostro fare fotografia lo rendiamo il più consapevole possibile quindi uno scatto un'inquadratura un punto di vista non può mai essere se non raramente per carità casuale è sempre ragionato è sempre consapevolmente colto io credo che se usiamo la consapevolezza come metodo come strumento per fotografare cresciamo tutti più rapidamente noi dovremmo metterci in testa che se lo vogliamo il nostro scopo è quello di comunicare allora nel circolo nel mio circolo ci sono dei contest mensili quindi c'è un tema allora ci sono chiaramente persone a diverso livello perché questa è una strada che tutti stiamo percorrendo nessuno è arrivato c'è chi si trova all'inizio chi si trova avanti ma è una strada che dobbiamo percorrere tutti quanti e allora riflettevo cioè mi sono arrivate delle tre immagini di fiori il tema era fioriture e ma insomma assolutamente banali ma so chi le ha fatte quindi va benissimo cioè qual è stato l'atteggiamento questa persona è stata incantata da questa successione ricordi che era una successione di dimargherite no gli è piaciuta questa scena ha preso la macchina e ha scattato no quando la vai a vedere ti accorgi che quella sensazione non l'ha comunicata perché c'è il muretto di lato c'è un pezzo di macchina che sporge cioè no lui quando la rivede sicuramente dice ah che bella perché ricorda la sensazione che ha provato e che l'ha spinta a scattare no però quella immagine non comunica la stessa cosa all'altra persona no bello trick e non è che facendo trick hai messo dentro quel bello lo devi saper raccontare no quindi bisogna imparare a scrivere fotograficamente certo ci sono altre riflessioni sì mi rifaccio a quello che dicevi tu prima Francesco cioè noi oggi siamo molto legati al fatto del mezzo tecnico che utilizziamo per per riprendere immagini lo spunto di riflessione che a volte io faccio è che le immagini che oggi noi guardiamo dei fotografi degli anni 30 40 50 e le apprezziamo ancora oggi come delle vere e proprie opere d'arte se ci rifacciamo la tecnologia dell'epoca la risposta sta lì cioè loro non avevano mezzi fotografici come abbiamo oggi però ci regalano ci hanno lasciato un'eredità di immagini bellissime che ancora oggi sono apprezzate quindi questo sottolineare quanto dicevi tu prima cioè non è il mezzo oggi sicuramente abbiamo una qualità eccelsa nel riprendere dei momenti ma quello che rimane è la composizione e come si è fatta quella foto guarda tu se vuoi scrivere una bella poesia non è che hai bisogno di una stilografica con un pennino d'oro la puoi scrivere pure con un pezzo e quello che senti oggi esce una nuova macchina un nuovo obiettivo se la debbono vendere sì sì quella non è più buona però questo è quello che ci fanno credere le industrie è chiaro che l'industria ha interesse certo a farci credere che per fare una foto migliore devi avere una macchina migliore ma non è così è poi quella del pennello cinghiale diciamo allora io faccio dei workshop di fotografia astenopeica ed è bellissimo bellissimo perché stiamo insieme per la costruzione della macchina poi dopo la domenica mattina ce ne usciamo con queste scatole di scarpe in mano pensate alla gente che ci vede andare in giro con la scatola di scarpe che pensano però loro hanno una sola possibilità di scatto perché la carichiamo con un foglio di carta fotografica si esce e poi dopo bisogna tornare in camera oscura e quindi vedi che mettono la scatola poi non gli va bene la spostano cioè ci pensano per fare una foto prima di farla perché un unico scatto hanno invece con le reflex è tanto poi ci penso dopo con photoshop e quello la fotografia astenopeica è un antitodo oggi si scatta raffica eh si scatta raffica invece ti fa pensare ed è bellissimo è bellissimo scusami sono Luigi Montefoschi volevo farti più che una domanda una richiesta di una considerazione ormai sono passati 170 anni di storia fotografica una storia lunga tu giustamente hai posto l'accento sul fatto che photoshop non altera una presunta realtà che ci sono tante altre cose che la alterano abbiamo vissuto un secolo fa le avanguardie storiche che hanno destrutturato completamente l'illusione della realtà della fotografia un po' come è successo nella fase finale della pittura perché dopo cento anni ancora c'è questa necessità di una presunzione di realtà della fotografia come detto giustamente tanti fotografi continuano a dire ma io non ho usato photoshop oppure questa fotografia è completamente reale perché ancora c'è questa idea che pure è stata smantellata e che la tecnologia via Dio ci ha fatto capire che non c'è e non c'è mai stata sì Luigi lo sai perché perché molte persone pensano che la macchina fotografica sia una riproduttrice fedele del vero la macchina fotografica fotocopiatrice della realtà cioè questo all'inizio cioè all'inizio Talbot scrisse il libro la matita della natura cioè diceva qui non c'è la mano dell'artista è la natura che fa il suo lavoro e le lasti di Daguerre erano chiamati specchi dotati di memoria cioè nel senso che l'immagine che stava lì si imprimeva automaticamente quindi era la luce che faceva il lavoro l'altra parte fotografia questo significa e quindi è come se il fotografo fosse un artigiano questa mentalità purtroppo ancora continua a esserci cioè si pensa che la fotografia sia un qualcosa di obiettivo no? se non che come diceva Hein il fotografo americano la fotografia non sa mentire ma i bugiardi sanno fotografare cioè non c'è bisogno di usare Photoshop allora io sono ho una certa per esempio un certo indirizzo politico sono un reporter e però al mio politico preferito che sta facendo una conferenza a piazza ci stanno quattro gatti allora che faccio? io con l'inquadratura sto attento a inquadrare soltanto quei quattro gatti uso il teleobiettivo in maniera che schiaccio i piani e sembra che sia un sacco di persone accalcate non uso Photoshop ho usato l'inquadratura e il teleobiettivo ho falsificato la realtà e quindi cioè non è però la gente pensa che è vero che si vedono tante immagini false cioè adesso il confine fra la fotografia e pittura comincia a diventare sfumato c'è una terra di nessuno dove fotografie e pittura si intersecano ma è un'altra forma di di espressione quella lì il fatto di togliere dei fili con Photoshop che danno fastidio ma se io non sto facendo una fotografia documentaria non faccio nessun peccato sono un fotografo pittore cioè io voglio fare un'immagine che mi piace e che racconta dato a parte quando io disegno se ho un albero che mi dà fastidio non lo disegno oppure se ho una parte vuota lì ci disegno un elemento che non c'è nella realtà no allora se la finalità del fotografo è questa di creare un qualcosa di bello va bene è chiaro che se sono un reporter o se voglio documentare una certa realtà e l'altro allora faccio un falso allora sto imbrogliando però se sto creando un'immagine diversa che non ha fini di documento perché perché non dovrei cancellare quei fili che mi danno fastidio io una volta ho letto una cosa bellissima di un filosofo che si chiama Willem Flusser che ha detto che il il vero fotografo è quello che vince sulla macchina fotografica perché nella macchina fotografica sono già comprese tutte le fotografie che il costruttore ha pensato di metterci perché se tu prendi le coordinate spazio-temporali in realtà è tutto già predefinito il vero fotografo è quello che è capace di far uscire dalla macchina fotografica non l'immagine che sta davanti all'obiettivo poi questa cosa dell'obiettivo che obiettivo ci sarebbe anche da parlare l'obiettivo non è esatto ma soprattutto quello che ha in testa lui in quel momento il fotografo ha vinto sulla macchina fotografica e ha tirato fuori una buona fotografia secondo me questa è l'essenza della fotografia io poi tra l'altro su questo gioco di parole ci vedo anche un'altra cosa fotografia significa come hai detto tu giustamente scrivere con la luce noi non consideriamo scrittore chi fa noi consideriamo scrittore chi fa un elenco notarile di una cosa di quello che vediamo davanti a noi ci sta la pianta ci sta il movimento c'è questo c'è quell'altro lo scrittore è quello che inventa una storia il fotografo dovrebbe inventare una cosa che sta nella sua testa non quello che sta davanti alla lente però vabbè è chiaro che se fai reportage o foto di cataloghi non è così Luigi allora quando io faccio i corsi di fotografia la prima cosa che dico il primo giorno io mostro l'immagine di una matita e gli dico che cosa ci potete fare con la matita un disegno ci potete fare scrivere una poesia scrivere un racconto ci potete fare la lista della spesa cioè la matita è uno strumento anche la macchina fotografica è uno strumento come la matita non vi fate ingannare dalla complessità tecnica dello strumento poi con la macchina fotografica ci potete fare tante cose cioè se volete fotografare un tavolino perché vi piace e magari pensate di comperarlo e ve lo volete va bene e se volete ricordarvi di quella festa di compleanno non è che state facendo una fotografia artistica va bene una fotografia documentaria no? e potete fare con la macchina fotografica una poesia un documento o la lista della spesa no? io mi ricordo a scuola una volta che i telefonini cominciavano a avere anche la macchina fotografica quando c'era un avviso non lo stava ricopiare con la pena scattavo la fotografia no? è uno strumento ci dimentichiamo che è uno strumento e ci dimentichiamo che non fotografa la realtà cioè non è una fotografia della realtà l'obiettivo come dicevi tu non è affatto obiettivo vede la realtà a modo su intanto l'appiattisce non vede le tre dimensioni non registra i profumi non registra il vento non registra i rumori quindi non è la realtà è e molta gente ritiene che la fotografia sia oggettiva quindi se tu hai cambiato mi stai a imbrogliare perché hai levato quel lì ci stava il filo perché l'hai levato mi stai a imbrogliare è falso questa è la mentalità di molte persone no? cioè è come se la fotografia fosse un documento notarile della realtà per concorrere a quanto state raccontando io penso che la domanda di Luigi ovviamente è una domanda intrigante e provocatore che conosco bene il suo pensiero io però credo che il motivo principale per il quale oggi Luigi ci si attarda a condannare chi quando mostra una fotografia mostra un'immagine come dire manipolata chiamiamola un'immagine photoshopata usiamo questo termine e la gente qualcuno inorridisce ancora è perché siamo ancora in una fase di mezzo vale a dire la fotografia è nata come modalità per raccontare la realtà e quindi descriverla semplicemente descriverla cento anni fa oggi invece in cui da qualche decennio la fotografia ha cominciato a essere qualcosa in più a essere uno strumento non solo per raccontare come dire descrittivamente la realtà ma anche per stravolgerla per renderla leggera per renderla poetica la fotografia diventa quindi anche opera d'arte un'opera artistica e quindi si può manipolare in camera oscura 50 anni fa oggi con photoshop in modo più semplice arricchendo la realtà ovviamente dandole un significato ancora più profondo questo questo passaggio questa fase di transizione che è ancora in divenire non è ancora compiuto e c'è una parte dei diciamo dei fotografi o dei pensatori fotografi che si attarda alla foto di cento anni fa la filosofia come è nata cento anni fa la fotografia questo credo che sia insomma una delle ragioni principali di quanto accade io non voglio fare polemica perché non voglio annoiare nessuno ed è tardi però tu lo sai io sono uno scassacare scusa non sono un rompiscatole allora per essere violento io dico che queste persone che ragionano così e che pensano di stare in una fase di transizione sono ignoranti perché queste cose sono accadute cento anni fa ci sono state le vanguardie storiche cento anni fa agli albori della fotografia che hanno subito distrutto questa cosa cioè questa transizione non è possibile che duri da cento anni semplicemente ora come diceva giustamente Enrico abbiamo degli strumenti in più ma già con gli strumenti ridottissimi chimici ottici che c'erano prima tante persone che all'epoca erano geniali di cento anni fa hanno fatto già queste cose ma quanto deve durare questa transizione c'era Man Ray che buttava i chiodi sulla pellicola accendeva la luce e stampava quello che usciva la sabbia hanno capito subito che era un'altra cosa ma che ora ancora si sente questo Luigi fatti capace c'è poco da fare cosa? dicevo fatti capace questo c'è poco da fare hai ragione hai ragione Raffaele hai ragione d'altra parte è come la pittura tu quello che dicevi prima che è la fotografia che l'ha rivoluzionata cioè la pittura prima cercava la verosimilità è vero lo sforzo era quello una volta che la fotografia ha dimostrato che era più brava della pittura a rendere reale la pittura ha dovuto cercare altre strade ma va bene così quindi abbiamo avuto tante correnti che hanno esplorato nuovi mondi e quindi noi non la condanniamo la pittura perché i macchiaioli gli impressionisti e tutto quanto anzi si è arricchita e ci ha arricchito è chiaro che poi chi condanna per esempio il futurismo il cubismo è una persona che non sa che cosa è e non conosce nella pittura e nella storia la fotografia è la stessa cosa quindi cercare esplorare nuovi spazi va benissimo poi è chiaro che c'è quello che impara a usarsi Photoshop magari impara lo pseudo HDR si mette a giocare a pigiare sui tasti e fa delle schifezze profonde quello è un altro scopo ma chi sistema l'immagine con delicatezza usando gli strumenti di adesso per realizzare quello che ha in mente quello no assolutamente no quello va benissimo ma mi dico di più ma è così purtroppo è così partecipo ho partecipato a diverse giurie di concorsi fotografici vi dico di più che questo attardarsi usiamo questo termine Luigi questo attardarsi sul vecchio concetto della fotografia descrittiva purista chiamavano così non è non è una forma mentis diffusa solo in una parte dei fotografi purtroppo è una forma mentis largamente diffusa dai non nei non fotografi cioè quando partecipo in giurie in cui ci sta lo scrittore il giornalista capito l'attore cioè l'uomo diciamo l'uomo non fotografo chiamavano cioè che non ha cultura fotografica però partecipa grazie al fatto che ha comunque una sua cultura generale queste osservazioni puriste vengono soprattutto da questo da questo mondo più che dai fotografi e poi la cosa peggiore è se fra quelle persone c'è un pittore che non è fotografico perché giudica con i metri della pittura la fotografia no e questo non va assolutamente non va bene non va bene non va bene non va bene ma la strada per me è assurdo che delle persone che di fotografia non ne capiscono magari proprio niente vanno a giudicare delle foto fatte da fotografi come si deve questo in FIAF non succede però quando da da giovane venivo chiamato a far parte di giurie dei paesi ne sentivo delle belle le sentivo perché una volta dice allora qua l'organizzatore qui noi abbiamo in questo paese c'è la piazza c'è la chiesa e c'è la torre allora mi raccomando premiamo una foto della torre una della piazza e uno ma che sta dicendo ma cosa sta dicendo noi dobbiamo premiare la fotografia non la cosa fotografata la cosa fotografata e la fotografia sono due cose diverse io posso premiare pure la fotografia di una pietra se è una fotografia valida e poi quello che conta in una fotografia se è stata manipolata noi dobbiamo guardarla e dobbiamo vedere se funziona quello che ci trasmette e ripeto sempre lasciando da parte se l'intento è quello di documentare è un discorso ma se non è quello di documentare non ci facciamo tutti questi salti mentali ma forse qui ha usato funziona questa fotografia è efficace mi commuove si dice menate mentali e allora va bene no? poi se invece sta fotografia vedo che è stato usato Photoshop ma è sbagliata là ci stanno degli aloni racista vabbè un altro discorso invece allora impara a usare la post-produzione come si deve e questa è una schifezza cioè come si scrive una poesia e ci metti io sono andato io ho detto io ho andato io sono detto Giuseppe probabilmente un po' come è accaduto con i social dove un po' tutti sono diventati scrittori e giornalisti la fotografia che oggi è la portata di tutti cioè oggi si può acquistare un telefono un tablet e ci si sente un po' tutti fotografi sostanzialmente però senza avere la cognizione di quello che c'è dietro poi a un'immagine forse questa possibilità che ben venga dal mio punto di vista però da un certo senso o di onnipotenza o comunque di sapere di conoscere della fotografia forse anche questa diciamo un po' la chiave di lettura di quello che si critica o di quello che si sente in giro quando si sente parlare di fotografia ci ha avvicinato molte persone che probabilmente non hanno le dovute conoscenze per quello che può essere un ambito artistico della fotografia ma non solo ma questo va bene cioè il fatto che tutti quanti possono scattare fotografie va bene il brutto è quando uno si ritiene artista si ritiene artista si mostra come tale e quando vedi sui social certe schifezze veramente che vengono i complimenti sei un artista ma che bella ma vabbè insomma e vabbè basta che sei contento vabbè la è di vuoro insomma ognuno ha i suoi 5 minuti sì ma lasciamo vivere lasciamo vivere vabbè noi divertiamo alla fine lo scopo fondamentale non è non siamo obbligati a fare dei capolavori no? ci dobbiamo divertire con la fotografia poi è chiaro che se la prendiamo sul serio è meglio se cerchiamo di migliorarci va benissimo ecco però vabbè insomma chiunque vuole fare uno scatto lo faccia pure non è che non è che ci fa danni insomma perché non si addira diciamo l'importante è che ci divertiamo sì bene ci sono altre riflessioni più che domande siamo a livello di riflessioni altrimenti chiudiamo ringraziamo Enrico che veramente ci ha dato una mano seria stasera sull'argomento che sembrava o può apparire inizialmente banale quello della composizione fotografica che invece è una parte centrale del nostro modo di fare fotografia insomma e la cosa che più vorrei sottolineare è che questo i metodi gli approcci le regole i criteri con cui facciamo buona fotografia diventino in modo crescente un modo più consapevole di fissare le immagini insomma in modo che siano le meno casuali possibili e le più pensate possibili solo così diciamo riusciremo ad esprimere al meglio la nostra capacità espressiva la nostra intenzione di raccontare per arrivare a una fotografia più matura insomma questo è un po' l'obiettivo della nostra associazione fotografica dei nostri amici che ci seguono da tempo se non ci sono altre riflessioni chiuderei la serata qui ringraziando Enrico Maddalena che ci ha tenuto in compagnia e tutti voi che ci avete ascoltato io ringrazio voi per l'ospitalità è stato veramente un piacere passato anche una bella serata ok buonasera a tutti buonasera e buona luce buonanotte buonanotte a tutti buonanotte 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 buonanotte